Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Pizzeria Ricca, il primo unico podcast dedicato alle pizzerie, in particolare alle pizzerie da sporto. Io sono Mario Menzio, sono un imprenditore e sto lanciando insieme ad altri soci un contenitore per la pizza da sporto altamente innovativo denominato Vinni e sono anche l'autore del libro Pizzeria Ricca, Pizzeria Povera. In ogni puntata di questo podcast intervisto i top player di questo settore, cioè gli imprenditori, gli esperti e le persone che in questo settore stanno facendo la differenza a livello italiano e anche a livello internazionale perché sappiamo che poi la pizza è in tutto il mondo. Quindi se non l'avessi già fatto ti invito a registrarti a questo podcast in modo da non perdere nessuna delle prossime puntate ed essere avvisato ogni volta che c'è una nuova uscita. In questo episodio, in questa intervista, ho il piacere di avere come ospite Pierpaolo Maresca. Ciao Pierpaolo. Ciao Mario. Ciao. Pierpaolo è il titolare della pizzeria Al Vulcano di Genova in via Trento 63 Rosso nel quartiere di Albaro di Genova e innanzitutto gli chiedo di raccontarci appunto come ha aperto questa attività, come è arrivato a superare una sfida così importante e appunto un pochino la storia della pizzeria e le sue caratteristiche principali per chi ancora non ti conosce. Allora, niente, semplicemente io ho preso un diploma nel 99 e da quel momento lì ho deciso che la mia carriera non era quella dello studente, come chiamola così, e raccolto da un amico di famiglia ho imparato a fare il pizzaiolo, però mi sono dato anche conto che il dipendente era un lavoro che mi stava un po' stretto, ecco. Ho imparato a fare bene il mio lavoro, bene, nel senso era anche abbastanza inesperto e dopo pochissimo, faccio il pizzaiolo da direi due o tre anni nel 2003, anzi no nel 2002, sono entrato a lavorare nella pizzeria al Vulcano che già esisteva, quindi era già pizzeria al Vulcano, avevo un titolare, io facevo sempre il dipendente a quel punto lì e mi si è prospettata l'occasione di rilevare l'attività e nonostante fosse pochissimo che lavoravo lì dentro, mi sono buttato nell'acquisto dell'attività e niente, ho deciso inizialmente ovviamente di mantenere il nome, di mantenere tutto lo stile lavorativo che c'era già, perché comunque era un'attività che già funzionava, andavano, ma aveva dei numeri diciamo discreti così. E scusa, per specificare per chi non ti conosce, è una pizzeria esclusivamente, diciamo, prevalentemente da sport o consiglio di rilevare? Assolutamente, sì, ha pochissimi posti, se c'è una mensolina per chi vuole consumare lì sul posto, però diciamo che è una pizzeria dove mi dedico praticamente esclusivamente all'asporto e alla consiglia ovviamente a domicilio. Diciamo che una caratteristica che ho sempre voluto tenere è quella di non espandermi troppo come zone di riferimento, cioè sono sempre rimasto a consegnare prevalentemente in zona albaro, perché ho sempre pensato che la pizza è comunque un prodotto che non può essere trasportato per tratti troppo lunghi e quindi ho preferito puntare esclusivamente alla mia zona e coprirla bene e quindi lavorare bene sulla mia zona proprio l'initrofa. Quindi diciamo che è sempre stata la mia caratteristica lavorativa. Ora ovviamente all'inizio ero un ragazzo di 23 anni e quindi diciamo che lavoravo, seguivo con la mia linea lavorativa, andavo avanti, tanto impegno, tanto lavoro, tanta conoscenza pratica, un po' meno teorica. Diciamo che con gli anni, col tempo, poi ho iniziato ad approfondire alcune cose, diciamo se prima per me era fare un impasto era una cosa molto lineare, ingredienti, va, lievita, pronto, si lavora. Allora ho cercato di informarmi un pochino meglio su alcune cose, su come funzionano gli impasti, su come la lievitazione, l'importanza della maturazione di queste cose qua, che inizialmente devo ammettere non ci dava una grande attenzione, un grande valore. Allora a quel punto lì diciamo che negli ultimi anni ho cambiato un po' un metodo lavorativo e infatti comunque sia, diciamo da un lavoro che nei primi anni era costante, ho iniziato ad avere degli incrementi lavorativi e diciamo che ho puntato tanto sull'impasto e ho puntato tanto sulla materia prima, diciamo anche investendo in farine biologiche, ho diciamo che ho eliminato totalmente la farina 00, che era la farina attualmente un po' demonizzata a livello pubblico e effettivamente è vero, è una farina abbastanza scadente, a prescindere poi dalla qualità di chi la produce. Ho puntato appunto sulla materia prima e poi ovviamente ho pensato anche a un progetto di rifacimento del locale, perché ovviamente poi il locale, era un locale vecchio perché il vulcano addirittura nasce nel 99, quindi io l'ho rilevato nel 2003, c'è stato questo periodo qua e nel 2013 ho deciso di rifare totalmente l'attività. Anche lì è stato un bel investimento perché ovviamente al momento che ho detto rifaccio l'attività la rifaccio bene, nel frattempo ho acquistato i muri dell'attività, quindi anche lì mi ha permesso di fare un investimento un pochino più a cuore leggero e niente, è andato bene, è venuto un bel locale, secondo me ovviamente l'ho scelto io, quindi diciamo che a me piace, è venuto un bel locale, carino, ovviamente piccolo, molto piccolo, diciamo che lì ho puntato proprio sull'ottimizzazione degli spazi, perché quando hai 30 metri quadri e vuoi produrre un certo numero di pizze hai bisogno di personale e devi mettere del personale in 30 metri quadri, nel senso chi fa questo lavoro qua sa che gli spazi sono fondamentali per frighi, per tutto, diciamo. E poi a quel punto lì rifacendo il locale ho potuto anche investire su attrezzature più importanti, ho cambiato il forno a legna, premessa, che il bucano è direi in zona al baro sicuramente l'unica pizzeria d'accordo con il forno a legna. Infatti in generale comunque il forno a legna noto sempre di più che ce ne sono sempre di meno, secondo me è un valore che noto anche la mia clientela parlandoci, sostiene questa teoria che il forno a legna offre comunque una qualità del prodotto migliore. Ovviamente è molto, molto difficile da gestire, il personale deve essere all'altezza della situazione perché purtroppo da solo non riesco a far tutto. E devo dire che ultimamente ho uno staff competente che mi permette anche di gestire un pochino più dal, non dall'esterno, ma un pochino di più, come dire, in maniera un pochino più defilata l'attività e seguire magari cose più importanti come amministrazione e cose del genere. Ecco questo mi permette di dire, conoscendo, avendo la fortuna di conoscere personalmente la tua attività, che in quello sei molto bravo, io dico sempre più bravo che fortunato, la fortuna uno se la crea perché hai delle persone intorno a te veramente in gamba che hanno voglia di fare, di cui puoi fidarti e lasciargli l'attività e come dicevi giustamente tu questo è molto importante perché è il famoso poter lavorare sul business anziché essere sempre nel business e quindi poterti staccare ogni tanto e vedere le cose un po' dall'esterno a mente più fredda e più calma e capire che cosa c'è da migliorare ed è un percorso che so che stai facendo e lo stai facendo molto bene in questi anni e sicuramente il fatto di aver trovato le persone così in gamba ti agevola, sappiamo che non è mai facile però sei anche tu la dimostrazione che poi magari anche sbagliando ogni tanto, non so come siano le tue esperienze progresse, però poi le persone che hanno voglia di lavorare serie si trovano ancora ecco non sono sparite del tutto come a volte a volte sembra, giusto? Assolutamente, assolutamente, da quel punto di vista lì io sono sì, hai detto bene te, fortunato, bravo, non lo so, non mi interessa neanche saperlo, però sì effettivamente uno staff di ragazzi che oltre a essere bravi a livello tecnico sono anche umanamente veramente persone, belle persone ecco, tendo, ecco la mia caratteristica, cerco sempre di mettermi intorno persone positive a livello umano più che a livello, diciamo che tecnicamente si può sempre migliorare, umanamente diciamo che è un pochino più difficile, questo è il mio credo, ecco. Certo, ma come dicevo posso confermare assolutamente il discorso, poi ne parleremo più nel dettaglio, vale anche per i ragazzi portapizze, che molti tuoi colleghi quando li intervisto, quello è sempre un po' un nervo scoperto perché non è facile trovare ragazzi che abbiano voglia di darsi da fare, di guadagnare qualche euro in più, diciamo, per pagarsi le loro spese e tutto, ma anche lì tu sei bravissimo, come dicevo prima, per me la fortuna non esiste, quindi sei molto bravo a circondarti di persone in gamba anche per quel tipo di attività, che essendo magari un po' più estemporaneo può essere più difficile trovare qualcuno motivato che ti segua seriamente, ma vedo che stai facendo, hai sempre fatto, immagino, un lavoro ottimo anche da quel punto di vista. Ora, non è che voglia passare la puntata a riempirti di complimenti, però quando è doveroso mi sembra giusto farlo, così come lo faccio con gli altri titolari di pizzeria che ho intervistato in questo podcast. Quindi mi dicevi di questo percorso di miglioramento che parallelamente ha portato anche a un miglioramento dei numeri, dei fatturati, un incremento degli ordini, del giro di clientele e quant'altro e raccontaci un pochino, negli ultimi anni stavi dicendo del forno, del rinnovato locale, di aver rinnovato il forno e da lì poi hai anche iniziato a rinnovare altre apprezzature, altre modalità, diciamo, i processi di lavoro, ecco, magari raccontaci un pochino. Sì, nel senso ho migliorato a partire dalle cose più stupide come l'attrezzatura per igienizzare, per pulire il forno a legna, attrezzature tecniche, invece che i classici scopettoni o scoppe o mocio per pulire per terra, per arrivare poi a, diciamo, quello che in questo momento secondo me è stato quello che nell'ultimo anno mi sta permettendo di fare un grosso salto di qualità è un frigo particolare, non faccio pubblicità, non dico il nome, però di un'azienda leader che mi permette di praticamente di utilizzarlo solo esclusivamente per l'impasto e mi permette a mia volta, che è molto difficile perché ricordiamo gli spazi ridotti, devo avere un, mettere un frigo solo per l'impasto è stata un'impresa irvita, ma ce l'abbiamo fatta e diciamo che questo frigo qua mi permette sempre un giro di impasto ottimale, riesco sempre a lavorare con un impasto nella giusta maturazione e la giusta limitazione, che secondo me è fondamentale. E niente, diciamo che questo è stato secondo me un pochino una svolta, una svolta perché mi rendo conto che ora l'impasto è diverso. Poi ovvio, quando hai dei clienti che ce li hai da 15-20 anni quasi ormai nel mio caso, a volte anche una miglioria può non essere apprezzata, perché se un'abituata a mangiare una cosa, se gliela migliori, perché è una miglioria, ma magari per lui no. E ho riscontrato anche questo, perché non ho ovviamente fatto contenti tutti, ma questo purtroppo secondo me è un rischio che bisogna correre, soprattutto quando si crede nel prodotto che si sta facendo. E io, nel senso, dal mio punto di vista, in quel momento stavo migliorando la pasta della mia pizza. Poi, se il pubblico ha dato il risultato finale, il cliente che ha dato il risultato finale, qualcuno forse l'ho perso, ma i numeri parlano chiaro e parlano sempre quelli, direi che sono più quelli probabilmente che ho conquistato. E quindi diciamo che lì è nato il mio nuovo impasto, che ha determinate caratteristiche, del quale ora in questo momento vado anche abbastanza fiero, direi. Anche qui posso confermare, specifico che Piera ha due tipi di impasti, di cui uno integrale, che a me piace particolarmente, comunque sono entrambi ottimi. Bene, dicevamo appunto di questi progressi, di questi cambiamenti che vanno sempre per migliorare. A volte, diciamo, ci può essere il cliente che subito rimane spiazzato, però credo che poi alla lunga distanza tutte queste cose, come stavi dicendo tu, ti premiano. Io tra l'altro sottolineo che ci tenevo molto a fare questa intervista per un motivo particolare. Sapete, chi ci ascolta, che nella seconda parte di questo podcast parliamo sempre di un tema molto scottante, che è quello dell'asporto, dei contenitori per l'asporto, quindi parliamo generalmente delle classiche scatole di cartone, di quelli che possono essere i problemi ad esse connessi. Nel caso di Pier, lui è stato il primo, insieme a un'altra pizzeria, IG Pizza di Milano, a utilizzare il nostro innovativo contenitore per l'asporto, che è Vinni, che è realizzato in polistire in alimentare, ha delle caratteristiche che magari ci racconterà anche Pier, quindi non voglio parlarne io. Però, appunto, essendo, avendo iniziato già da marzo scorso, quindi parliamo oggi, siamo in ottobre, parliamo di circa sette mesi da quando è iniziato a usare questo nuovo contenitore, è molto importante secondo me la sua testimonianza per chi magari ha iniziato da poco a utilizzarlo, sta ancora pensando se fare questo passo o meno, sentire cosa è successo in questi mesi, a partire dai primi giorni in cui hai iniziato a usarlo e poi, appunto, nei risultati, nei progressi che hai avuto nei mesi successivi. Ma ancora prima ti chiedo come ci hai trovato e perché ci hai cercato, ecco, come è andata questo primo impasto. Allora, diciamo che ormai direi che è passato un anno. Era circa l'anno scorso e giusto la tendenza al migliorarsi fa sì che io ciclicamente dedichi una parte della mia giornata nel cercare gli eventuali prodotti che possano migliorare il mio lavoro, a partire dai cassoni per portare le pizze, arrivare ai contenitori, ovviamente. E il contenitore è sempre stato per me, diciamo, la cosa, soprattutto da quando ho cambiato la tipologia di impasto, è sempre stata la cosa che il mio crucio, cioè volevo qualcosa, cioè mi sembrava assurdo che non ci fosse niente, che si potesse migliorare il trasporto della pizza. Cioè, io sono vent'anni che porto pizza a casa e vent'anni che c'è sempre gli stessi identici problemi sulla consegna ad omicidio. E dico, è possibile che non si riesca a progredire da quel punto di vista lì. E quindi ho sempre fatto le mie ricerche Google, niente di po', niente di chi. Ti chiedo una cosa, perché poi magari ognuno ha il suo punto di vista soggettivo. Quali erano i problemi che riscontravi con il cartone da vent'anni a questa parte? Penso che quello, i problemi che non credo, cioè credo che nessun pizzaiolo o proprietario di un'attività come la mia, cioè non può non riscontrare, cioè la qualità della pasta e della pizza non c'è più. Purtroppo se fai una pizza che ha un certo livello di idratazione e quindi il vapore aquero è tutto, lo prendi e la chiudi dentro un cartone, è inevitabile che mangi qualcosa di gommoso. Poi ovvio, puoi sopperire, come ho sempre fatto io in passato, con dei buoni, un buon prodotto a livello di digeribilità, un buon prodotto a livello di pomodoro, mozzarella, ingredienti vari, la mangi. Perché non siamo qua a dire se ho un'attività da vent'anni, la mangi. Però diciamo che io in pizzeria mangio una pizza e a casa ne mangio un'altra. E quindi cercavo qualcosa per poter migliorare questo, senza contare poi un altro particolare che non è di poca rilevanza, è che se porti due cartoni alla volta va bene, il danno può essere relativo. Se aprivi già 4-5 cartoni, il peso, il calore e tutto fa sì che ovviamente la pizza sotto subisce una deformazione e quindi viene regolarmente schiacciata, senza contare che poi il trasporto fatto in motorino in una città come Genova, che è tutto un sali, scendi, salite e discese curve, quelle sono ovunque, ma le salite e discese di Genova sono abbastanza. Poi al baro è in una collina, quindi potete immaginare. Di riflesso l'ingrediente tendenzialmente tende a uscire e se finisce sul cartone mangio a carta, se lo vuoi recuperare, se no mangio la pizza con la metà degli ingredienti. Quella è una scelta che deve fare il cliente. Io più di quello purtroppo quando la geografia della mia città non l'ho fatto cambiare. E a quel punto entra in scena a Vigni, diciamo. Io l'ho scoperto così, una ricerca su internet, contenitori, contenitori, contenitori per pizza. Mi appare questo link, guardo dentro, scopro la pagina Facebook e inizio a tartassare il buon Mario con messaggini, ma quando entrerai in commercio, così. E la, diciamo che i miei messaggi sono iniziati, mi ricordo, era questa stagione qua, direi ottobre, poi gennaio e poi a febbraio ci siamo incontrati per la prima volta, quando il prodotto iniziava ad avere una forma, un'idea più precisa. Abbiamo iniziato questa, diciamo, questo rapporto collaborativo e ho voluto testare e a quel punto lì basta. Per me il trasporto a casa è solo a Vigni. Poi ovviamente l'istante è un po' al cliente. Io non me la sono, devo essere onesto, non me la sono sentita di tagliare fuori i cartoni, perché secondo me l'ingresso deve essere graduale, però ormai io li ho imposti assolutamente al cliente al quale la porto a domicilio. Quello è un'imposizione, quindi chiunque mi ordina la pizza da casa, gli viene trasportata nel Vigni. Il cliente che viene dentro, ovviamente, gli do l'opportunità di scegliere, perché magari c'è il cliente che è più abitudinario, però ovviamente dal mio punto di vista è solo questione di tempo. Poi ovviamente verranno tutti convertiti a quello che secondo me è assolutamente una miglioria. Non si può fare a meno avendo una più seria da sport. Molto bene. Mi permette di dire una cosa che, appunto, intanto ti ringrazio per questa bellissima testimonianza. Per quanto riguarda il discorso graduale, noi siamo più dell'idea che sia meglio dare un taglionetto col passato, si entra in una nuova era ed è giusto che questo messaggio arrivi forte ai clienti, come tu fai per quelli a cui fai la consegna a domicilio e non gli dai scelta, quindi dici o vini o niente ed è giusto fare così, nel senso, mi parlavi anche prima riferito al nuovo frigo, si corre magari il rischio facendo una miglioria di perdere quel cliente affezionato, nostalgico, anche delle cose meno buone, meno valide, però poi alla fine questo paga, nel senso che se tu fai una scelta, la porti avanti con convinzione, poi le persone ti vengono dietro, anche perché poi il prodotto funziona, quindi non è che uno lo faccia così, giusto per fare quello che fa le cose diversamente dagli altri, che sicuramente comunque ha anche il suo peso, il suo valore, ma in questo caso si fa diversamente dagli altri, ma anche meglio, quindi le due cose abbinate fanno sì che se si sposano in pieno, poi i risultati arrivano come stanno arrivando a te, magari poi ti chiederò di darci qualche dettaglio in merito, quindi specifico che appunto Pierre ha scelto questa linea, adesso per ora chi viene a prendersi la pizza ha ancora questa possibilità di scelta, ma come diceva lui ha una situazione temporanea, io ne approfitto anche per consigliarti Pierre quanto prima, di fare questa scelta radicale, perché poi a quel punto il tuo marketing diventa ancora più forte, più posizionato e forse perderai qualcuno, ma ti assicuro che saranno, per uno che ne perdi ne arrivano almeno altri cinque, quindi... No, no, ma quello sono... mi rendo conto che assolutamente sarà così, è più una difficoltà iniziale mia di togliere una cosa così, comunque stiamo parlando di cartone, di qualcosa di estremamente radicato nella... Eh, lo sappiamo, lo sappiamo. Poi Albaro è un quartiere anche anziano e quindi ho un target di clientela particolare da quel punto di vista lì, però sicuramente l'obiettivo è quello nel 2019, lo sarà sicuramente. Bene, bene. No, sì, chiaramente, l'abbiamo già detto e ridetto, tutti i cambiamenti comunque spaventano anche se vanno a migliorare, c'è sempre una percentuale di persone che resiste al cambiamento proprio perché lo sente come una minaccia, quindi ha paura e per questo motivo noi diciamo che Vinny non è per tutte le pizzerie, ma solo per quelle che decidono di appunto dare un taglio al passato, fare questo cambiamento radicale e sposarlo e cavalcarlo, soprattutto fino in fondo, perché altrimenti il valore che si può avere sotto ogni punto di vista viene magnificato perché uno rimane un po' al guado, a metà strada, arriva il cliente e gli dice, ah ma sai, preferivo il cartone, e arriva un altro che ti dice, ah ma sai quel buon odore del cartone, che non sono altro che... E' successo anche questo, conferma. E quindi non ci stupiamo di nulla, però poi è lì che il titolare di pizzeria deve avere il, diciamo, il timone saldo da tirare dritto e come tu dimostri poi appunto questo atteggiamento, questa mentalità viene premiata. E in questo senso prima di chiederti appunto anche i riscontri dal punto di vista economico per quello che ci puoi raccontare al momento, parlavi appunto dell'impatto iniziale, ti chiedo, siccome molti ci dicono all'inizio, proprio per l'abitudine, anche le stesse pizzerie, ah però Vinni funziona diversamente, alcuni ci dicono addirittura che è poco pratico, quando in realtà nasce proprio con un tutt'altro principio, cioè quello di essere assolutamente pratico, a cominciare dal fatto che non devi perdere tempo a montarlo, riempire di polvere, di cartone, di carta il locale, tagliarti le dita, come abbiamo già parlato in altre puntate, però oltre a questi aspetti c'è proprio l'operatività nel maneggiarlo e la tua esperienza è molto divertente e simpatica in questo tempo, se ti fa piacere raccontarla. Sì, sì, assolutamente. Niente, ovviamente non nego che all'inizio, quando lavori in una determinata maniera per, dicevo, 15-20 anni, prendi, chiudi, organizzi cartoni, metti, passare al BIMI, effettivamente è stato un trauma e questo è innegabile, ma penso che chiunque lo stia provando, stia provando la mia stessa esperienza. Però ci vuole il suo tempo, ma non parliamo di tempi biblici, parliamo di tempi secondo me molto rapidi. Io ho tolto la prima settimana in cui ho avuto un po' di difficoltà, soprattutto perché passi da magari un lavoro lunedì sera, un martedì sera, dove io ho preferito iniziare ovviamente in serate tranquille, e poi ti sembra di prenderci un po' la mano, poi ovviamente arriva il weekend, trovi delle difficoltà, lì va un attimo in panico, perché ovviamente gestire questa cosa qua, all'inizio è un attimino problematico. Ad oggi io sono sette mesi che li uso, per me è la cosa più naturale del mondo, non esiste proprio la difficoltà, però mi rendo conto che all'inizio il mio ricordo è questo, che non era talmente semplice, però vi posso garantire che ad oggi io uso proprio con estrema naturalezza, per me chiudere, appilare un vigni, mi ricordo addirittura all'inizio avevo difficoltà, la grossa parità di tempo era appilarli in maniera corretta, perché ovviamente se li appili in maniera sbagliata finisce che il vigni finisce con la pizza di sotto. E ora onestamente non è una cosa che è talmente naturale, viene proprio in maniera naturale, soprattutto perché ora sono io prevalentemente che gestisco, ve lo dico proprio in prima persona, perché io gestisco proprio questa situazione, cuocio le pizze quando c'è bisogno, ma prevalentemente organizzo la consegna, quindi chiudo e finisco di farcire le pizze, quindi sono io che le organizzo e vi posso dire che assolutamente allo stato attuale per me è la cosa più semplice del mondo, però non nego che all'inizio è un pochino di difficoltà, le ho avute, ma bisogna avere fiducia nel prodotto perché assolutamente a parte l'inizio è un pochino più traumatico, poi successivamente viene tutto da sempre, semplicissimo proprio. Bene, in questo senso ti chiedo due cose che ci dicono ogni tanto, che sono una che hanno paura che quando ne metti tanti, ci fai una pila alta da 7-10 box anche di più, hanno paura che non sia stabile, che si schiaccino, cose del genere, e l'altra, la difficoltà è quella dei ragazzi portapizza che non si trovano, ne abbiamo parlato prima, quei ragazzi sono in gama, ma in generale è un problema anche questo, noi vi vediamo in altre pizzerie che può essere appunto per la prima settimana, per le prime volte, ma che poi è solo una questione di prenderci la mano, però più che dirlo io mi fa piacere se anche in questo caso ci racconti le tue impressioni, la tua esperienza. Assolutamente, sì, ma per quel che riguarda la stabilità può essere un'impressione, quello non lo nego, può dare l'impressione di avere poca stabilità, ma l'incastro è assolutamente coincidente, poi ovvio, se uno decide di mettersi a ballare con in mano una pila di 10 vini, quello succede anche sui cartoni, nel senso che rola tutto, però se uno fa il suo percorso regolare non ci sono assolutamente problemi, i miei portatizze mi hanno detto che non ci sono mai stati problemi nel trasporto, nel senso non perdono neanche nelle curve, diciamo non perdono di stabilità e il trasporto ci vuole anche lì, il ragazzo deve abituarsi che non è più un trasporto, le due tizze non le tieni più con una mano sola, mentre cerchi il resto, ma bensì devi avere un'accortezza in più, però stiamo parlando di cose che possono far perdere tre secondi nell'arco di una consegna, avere un'attenzione in più, non mi sembra niente di, cioè nel senso bisogna sempre secondo me valutare i benefici, i pro e contro, nel senso riuscire a non portare più una pizza tenendola con una mano, però il beneficio che porta, ora nel senso io faccio il suo sacrificio e mi tengo la pizza con due mani per avere poi un beneficio successivo, quindi sì assolutamente i miei portatizze all'inizio hanno avuto qualche difficoltà, non è vero, però ora che sono abituati vanno in maniera tranquillissima, quando capita che mi vengano riportate indietro delle pizze per errori, anche mia, cioè nel senso prevalentemente mi hai, perché magari sbagli l'orario, non laggi bene l'orario, mi è capitato giusto sabato, ho spiegato delle pizze senza controllare bene l'orario, la riazzare alle nove, io le ho mandate alle otto, ovviamente il cliente non le ha accettate giustamente, ci mancherebbe altro, me le ha riportate indietro e lì vedi come ti ritornano le pizze, quindi come il portapizze porta le pizze al cliente, a me le volte in passato che mi portavano indietro le pizze nei cartoni, ti mancava il cuore, mi mancava il cuore, io porto le pizze così vuol dire, no, mi sono ritornate cinque pizze appilate, perfette, nel senso erano lì, perfette, quindi secondo me, ora non credo siano fenomeni nei portapizze, ma magari lo sono, però sono sicuramente bravissimi, però diciamo che è solo questione di adattarsi, le innovazioni hanno bisogno di un pochino di tempo, ma secondo me ne vale assolutissimamente la pena. Ti ringrazio di questo e a proposito appunto del valerne la pena, dicevi prima del cartone, di come l'impasto diventi un qualcosa di gommoso, molto lontano, parente da quello che è la versione in pizzeria, ti chiedevo appunto sicuramente avrei fatto le tue prove anche prima di fare i tuoi ordini, i tuoi primi ordini divinni e lo stai vedendo anche tutti i giorni, quindi cos'hai riscontrato invece per quanto riguarda il nostro prodotto? Ma dici parlando di temperatura, di cose del genere? Temperatura, di qualità dell'impasto? No, quello l'ho già detto prima, mi ripeto, ma la qualità della pasta è perfetta. Addirittura, mi sembra quasi che voglio lodare troppo, ma io credo... No, voi tra l'altro specificheremo che non ti abbiamo pagato, non ti abbiamo regalato la fornitura, cose del genere, quindi... Io credo veramente in questo prodotto, tanto che sfido chiunque, se provate a mangiare una pizza nel vigni senza trasporto, quindi messa lì e mangiarla in un piatto, a mio modo di vedere è meglio mangiarla in un vigni, tolto magari la difficoltà che puoi avere nel tagliarla, perché magari un piatto è più semplice da tagliare, tolto il fatto che alcune persone hanno scoperto che mangiano la pizza con le posate, cosa che a me mi metto un attimino... Però, liberissimi tutti, la particolarità troppo connotato è, oltre il bordo, il bordo rimane fragrante nel piatto, rimane fragrante nel vigni, la pasta sotto, la pasta sotto nel piatto, comunque sia lo sfociare del calore verso il basso, anche sulla ceramica, ritorna, ritorna l'umidità e se si salva al bordo, la pizza però sotto rimane un pochino più, fa quell'effetto che quando la sollevi fa gloscia, anche nel piatto. Nel vigni ho riscontrato che se prendi una pizza, la metti nel vigni e te la mangi, rimane fragrante anche sotto, fa proprio un effetto completamente diverso e questo secondo me è una cosa, dal mio punto di vista è stata un'illuminazione, il poter mangiare la pizza trasportata a casa, ma anche sul posto, mangiarla così, secondo me è un cambiamento, una miglioria veramente decisiva, cioè, tutto qua. Bene, bene, fa sempre piacere sentirlo, anche tanti i tuoi colleghi l'hanno confermato, poi rimaniamo stupefatti quando ci dicono il contrario, ma abbiamo iniziato a capire che molte volte lo dicono perché non vogliono cambiare per vari motivi, quindi devono trovare i difetti, che poi io dico sempre, va bene, non sarà perfetto perché è un prodotto che stiamo migliorando, sviluppando, anche con l'aiuto di Pierpaolo e delle altre pizzerie che hanno iniziato usarlo, lui può anche testimoniarlo, abbiamo già cambiato i coperchi, adesso gli arriveranno una nuova fornitura che sarà leggermente diversa da quella precedente, quindi è un miglioramento costante anche per noi, però anche già così stiamo parlando di un prodotto, io mi permetto di dire, naturalmente è chiaro che tifo per la mia parte, tiro l'acqua al mio mulino, come si dice, però è un prodotto che è dieci volte se non cento volte migliore rispetto al cartone, quindi se vogliamo parlare dei difetti, piccoli difetti di vini, parliamone, ma non dimentichiamaci la tragedia che è la scatola di cartone attualmente e non c'è neanche paragone, questo va bene. Confermo. Ti ringrazio. Volevo dirti ancora due cose che secondo me sono interessanti, molto interessanti per chi ci ascolta. La prima, dicevamo, avendo tu un'esperienza su questo prodotto già da qualche mese, sicuramente ci puoi dare anche una testimonianza, trasferire la tua esperienza per quanto riguarda proprio l'incremento di fatturato, cioè la parte dei numeri, perché noi diciamo sempre che questo non è un semplice contenitore, ma è un sistema, è un sistema principalmente di marketing perché consente alle pizzerie di differenziarsi oggettivamente da chiunque altra e quindi di trarne anche dei benefici economici non indifferenti. È chiaro che comporta un investimento iniziale più importante perché non può costare come il cartone, essendo come dicevo io prima 10-100 volte meglio, ma state tranquilli non costa 10-100 volte meglio, ha il suo prezzo perché è giusto che sia così, ma quello che più conta è soprattutto il ritorno che può dare. Una cosa che noi diciamo sempre, chi ci chiede quanto costa è, la domanda corretta in realtà sarebbe quanto mi farà guadagnare. E può sembrare una cosa retorica, un messaggio di marketing nostro così fino a se stesso, in realtà poi ne eravamo certi e ci fa piacere che Pierpaolo ce lo stia confermando e vorrei che appunto tu raccontassi anche questo aspetto che sicuramente per tutti gli imprenditori che ci ascoltano è fondamentale. Eh beh sì, alla fine poi parlano sempre i numeri. Già. Niente, io ovviamente posso fare un bilancio ridotto, ridotto perché sono sette mesi che lo uso, il bilancio vero lo voglio fare a un anno, che si può capire veramente, vivendo tutte le stagioni di una pizzeria, vivendole tutte, si può capire veramente l'influenza che ha avuto. Io tendenzialmente le mie piccole innovazioni le faccio sempre, tendo a non accumularle, tendo a non accumularle giusto proprio per capire cosa può fare veramente la differenza. Specifico cosa intendi per non accumulare, cioè ne fai una alla volta, lasci passare il tempo necessario per misurare il cambiamento anche a livello economico, dopodiché passi a quella successiva e lo sottolineo perché lo sposo in pieno e lo consiglio a chiunque voglia fare questo tipo di miglioramento continuo, di non mettere tutto insieme ma proprio per poter misurare e fare una cosa alla volta, che poi non vuol dire aspettare un anno da una miglioria all'altra, ma giusto due o tre mesi, poi dipende anche da che miglioria stiamo parlando, per verificare effettivamente il risultato. Esattamente, ed è quello che ho fatto io con Vini, ho cercato di non modificare niente nel mio stato lavorativo in questi 6-7 mesi e posso dare i miei numeri, i miei numeri estivi, ecco, prevalentemente estivi, primaverigli e estivi. L'estate nel mio settore, soprattutto nella mia zona, è il momento peggiore, sono capire tanti, è il momento migliore per me ovviamente. C'è un forte calo. In un quartiere come Albaro, che è un quartiere residenziale, dove tendenzialmente chi vive Albaro, chi abita in Albaro, ha l'opportunità magari di fuggire dalla città anche per lunghi periodi estivi. Quindi di riflesso ovviamente il lavoro cala. Quest'anno, lo dico proprio candidamente, è stata l'estate più laboriosa in 17 anni di attività. Quindi, nel senso, i conti sono presto fatti. Io attribuisco, dal mio punto di vista, a questo miglioramento qua, al fatto che ho messo questo nuovo prodotto, questa innovazione nella mia pizzeria. Quindi mi sento di dire assolutamente che, per quel che riguarda l'estate, il lavoro è aumentato in maniera veramente concreta. Ma parecchio. Mi permetto di dire, se posso, mi ricordo quando mi avevi mandato un messaggio verso la metà di luglio, mi parlavi di numeri raddoppiati in termini di ordini rispetto all'anno prima. Sì, sì, da un periodo more ho fatto un'estate che era tranquillamente avvicinabile a periodi a un gennaio degli anni precedenti, perché il gennaio ovviamente non è un periodo, diciamo, di picco, però comunque è un periodo nettamente superiore all'estate, per quel che mi riguarda. E ho fatto dei numeri altissimi, considerato anche il pranzo chiuso, perché l'estate io poi non avendo scuola e università chiudo il pranzo. Luglio-agosto rimango chiuso, quindi lavorando solo la sera e vedendo proprio questo incremento, anche proprio di solito tendenzialmente i ragazzi, le ferie e la gestione delle ferie è molto semplice d'estate. Quest'estate è stato un disastro, perché c'era sempre bisogno di più personale per poter stare dietro all'attività. Infatti non ho quasi fatto vacanze, purtroppo. Però va bene, purtroppo, per fortuna, è andata bene, va benissimo così. Sì, devo mettere in guardia chi userà Vinny, che purtroppo crea questi problemi. E no, comunque, nel senso, essendo l'unica cosa che ho fatto rispetto all'estate precedente, a me viene da pensare che Vinny possa aver fatto la differenza. Anche perché proprio c'è anche tanta curiosità, comunque sia essere tra i primi a poter credere in un prodotto del genere ti porta comunque sia di riflesso lavoro anche proprio per quello, secondo me. Poi ovvio non ho la sfera di cristallo, quindi non so l'aumento, se è dovuto, magari è dovuto al fatto che sono diventato più simpatico, però mi viene più da pensare che i Vinny abbiano fatto concretamente la loro parte da questo punto di vista qua, assolutamente. Molto bene, molto bene. Sì, quello che diciamo noi, che accennavi anche tu, nessuna pizzeria può dire di essere l'unica a fornire la pizza in zona perché c'è la concorrenza e nessuno ha il monopolio in nessuna parte del mondo. Quello che però noi possiamo consentire alle pizzerie è di essere le uniche a consegnare la pizza a casa dei propri clienti, calda e fragrante come in pizzeria, come tu testimoniavi prima e non è cosa da poco perché consentiamo alle pizzerie di dire che sono gli unici perché noi diamo anche l'esclusiva di zona, quindi lo stesso Pierre nella sua zona, nel suo quartiere sarà l'unico, finché continuerà a essere il nostro cliente, ad avere questa opportunità. mi direte commercialmente siete dei pazzi ma noi crediamo molto in questo prodotto, in questo sistema e non ci interessa prendere tutto il mercato ma prendere una parte significativa, cioè quelle pizzerie e quei titolari di pizzerie come nel caso di Pierre che abbiano ben chiaro questi concetti e sappiano sfruttare questo enorme potenziale. Quindi in questo senso Vinni è un ingrediente di un sistema anche più ampio che appunto abbiamo denominato pizzeria ricca che comprende appunto questo innovativo contenitore ma anche dei servizi che stiamo sviluppando adesso per la personalizzazione dei contenitori appunto del coperchio di Vinni, cosa che tra l'altro Pierre ha da poco attivato quindi sarà anche lì uno dei primi ad avere questo servizio. e altre attività che servono proprio a aiutare, a migliorare le pizzerie che vogliono farlo tra cui anche i nostri materiali di marketing, il libro stesso Pizzeria Ricca, Pizzeria Povera che so che anche Pierre ha avuto modo di leggere e di apprezzare e quindi conosce bene quello che noi intendiamo. In questo senso visto che nel libro citiamo anche questo esempio di questa pizzeria ricca che adotta un gestionale, cioè un software che gli consente di prendere le ordinazioni dei clienti che chiamano, di registrarli, di avere quindi un database che inizia a costruirsi e a essere poi sfruttabile nel tempo, incuriosito da questa cosa, tirato da questa idea, Pierre ci ha poi chiesto se per caso era disponibile uno di questi gestionali, quale potevamo consigliarli e ci ha dato lo spunto per accelerare un processo che avevamo già in programma ma con tempi un po' più lunghi, un po' più in là e quindi abbiamo sviluppato in collaborazione con una società di software vicino a noi questo gestionale che abbiamo chiamato Dimmi, questa è un'anteprima assoluta che diamo, la prima volta che ne parliamo mi sembra in questo programma ma perché nel caso di Pierre è l'occasione giusta in quanto lui lo stai usando da un mesetto più o meno, questo gestionale. Quindi si chiama Dimmi Pizza Booking e proprio perché oggi si risponde, i ragazzi rispondono così al telefono, Dimmi, non molto educato però molto diretto ed efficace come vuole essere questo programma gestionale e Pierre naturalmente sta testando la versione 1.0, quella di base che comunque fa già tante belle cose, l'idea poi di implementarla ulteriormente anche con sistemi di marketing, automation, fidelizzazione del cliente e anche prenotazione online tramite app e questi sono i prossimi passaggi, però già così è un prodotto che siamo molto contenti perché ci sembra che stia facendo la differenza nell'operatività e siamo convinti ancora di più nel marketing domani perché, chiudo poi ti lascio la parola, Pierre scusami ancora un secondo, perché quello che diciamo sempre anche nel video che trovate dentro al DVD, nel pacco regalo, nella Vini Wah Box, nel video in cui do questi tre suggerimenti per migliorare il proprio business, il primo che dico è di non buttare via il bigliettino con gli indirizzi, i dati del proprio cliente che è una forma di lead generation che altre aziende pagano milioni per avere, per fare, che tutte le pizzerie invece hanno gratuitamente perché è assolutamente necessario per fare il loro lavoro e che invece viene buttato via ogni sera, cosa che purtroppo faceva anche Pierre fino a un mesetto fa, ma che adesso ha iniziato grazie a questo gestionale invece a conservare, a registrare questi dati, non solo i dati del cliente ma quello che ha anche ordinato in precedenza, avere il suo storico, la frequenza d'acquisto e così via, che poi a livello marketing sono dati utilissimi sia per fare degli studi statistici sia per implementare delle strategie per incrementare, quindi scusa tutta questa lunga premessa ma la prima volta che ne parliamo ci voleva un pochino più di tempo, se ci puoi raccontare com'è andata, come sta andando, come ti state, come vi state trovando sia te che i ragazzi che lavorano con te. Sì, qua le ragazze hanno un ruolo chiave, assolutamente, stanno impegnando a gestire diciamo questa novità e va molto bene, va molto bene, ovviamente non ancora, non c'è è talmente poco tempo che non c'è ancora il giro giusto di clienti da poter sfruttare giusto le caratteristiche che hai citato, il fatto della memoria, ora iniziano, nell'ultima settimana ho iniziato a notare che mi arrivano gli ordini e io ho già l'ordine fatto, devo stare lì ad ascoltare, mi chiedo tutto, sì, 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 e poi scherzo un pulsantino ma arriva la comanda che è esattamente identica a quella delle volte precedenti, tante volte anche con delle pause di riflessione incredibili per posizionare la stracola e niente, quello è un vantaggio comunque di velocizzazione per quel che mi riguarda notevole, poi diciamo che il futuro è proprio quello, è quello di velocizzare la cosa e soprattutto il potere seguire il tuo cliente, cosa mangia, ogni quanto ordina e poi successivamente andarlo a stuzzicare secondo me nel momento giusto, nel momento magari in cui c'è un calo di acquisto e seguire questa cosa qua che secondo me è fondamentale. Ora, ovviamente io in un mese non posso ancora dare un quadro preciso perché è ancora tutto, tutto ancora, si sta creando diciamo la mia cassaforte di numeri, di indirizzi e di cose, però sono sicuro che in brevissimo tempo riuscirò a avere la situazione più chiara e poter a quel punto intervenire e gestire queste cose qua. Bravissimo, e tra l'altro hai toccato un punto molto importante che è il punto che poi alla fine moltissime persone rifanno sempre lo stesso ordine, magari non se ne rendono neanche conto, ma come dicevi tu fanno queste grandi pause di riflessione e poi ti ordino la stessa pizza della settimana prima e avere questo gestionale è molto utile anche sotto quel punto di vista, nel senso sono varie le cose, vari vantaggi e uno per esempio è quello che il cliente ogni volta non ti deve ripetere chi è, dove abita e quant'altro, quindi tu gli dici ok sappiamo già tutto, magari gli chiedi solo una conferma, mi conferma che devo consegnare in via Parini piuttosto che in via Rossi, perché magari non siamo sicuri, magari sta ordinando da un altro domicilio, da un altro posto, però generalmente è sempre quello così come è sempre quello l'ordine, quindi pensare anche al cliente che si sente dire ciao Giuseppe, ciao Mario, ciao Antonio, cosa facciamo? Ordini solito? Lui si sente a casa sua, nel senso non andrà mai più da nessun'altra pizzeria perché lì non ha neanche bisogno di sbattersi a dire che pizza vuole. Un altro vantaggio commerciale è che vedendo quali ordini fa si possono fare due azioni, se la volta dopo magari fa un ordine più piccolo, si dimentica delle cose anche complementari come può essere il bere e così via, posso farglielo presente perché vedo che ordinava invece sempre quello, quindi probabilmente è una dimenticanza e poi anche lui stesso ne avrà male, nel senso che poi gli mancano delle cose che è abituato ad avere, a prendere, così come posso provare, ma questo come dicevi Pier, anche tu prima ci vuole del tempo, prima bisogna prenderci la mano naturalmente, posso provare a dirgli ma perché non proviamola anziché la mozzarella normale, la mozzarella di bufalo oppure la doppia, la pioggia di mozzarella, quello che è, è semplicemente un euro in più, però un euro oggi, un euro domani, un euro per ogni cliente, fatevi i conti a fine anno, decine di migliaia di euro e quindi diciamo poi uno, tu dicevi quest'estate hai potuto fare poco vacanze o zero, poi lavorando così uno se ne fa per così di vacanze anche quando gli altri devono lavorare, chiusa, questa è una piccola parentesi ma ci sta perché chiaramente l'imprenditore non è che lavora per la propria azienda, lavora poi per la propria vita, le proprie tasche e quindi è giusto che poi ne tragga i benefici come giustamente sottolineavamo prima. Bene, bene, quindi insomma questa esperienza finora sta andando bene, questa collaborazione perché io dico sempre noi consideriamo le pizzerie con cui lavoriamo dei partner a tutti gli effetti, credo che anche Pia possa confermare, è chiaro che poi ci sono gli aspetti commerciali e economici che vanno salvaguardati da una parte o dall'altra, però proprio lo spirito è quello, noi troverete sempre una porta aperta anche quando come dicevo prima ci dicono si potrebbe migliorare questo, quest'altro, noi ascoltiamo sicuramente tutti perché è il nostro primo interesse che le pizzerie siano soddisfatte così come i loro clienti. E abbiamo fatto, so che tra poco devi scappare, ti chiedo solo l'ultima domanda che facciamo a tutti, tu parlavi che hai iniziato, eri veramente giovane, quello che noi chiediamo alla fine di ogni intervista è che consiglio daresti a chi vuole iniziare questa attività da zero, chi ci sta pensando, chi magari sta già cercando il locale o comunque sta facendo i passi necessari, probabilmente giovane ma anche non giovane, che consigli daresti su le cose che è meglio fare all'inizio e meglio evitare invece di fare quindi gli errori che sarebbe meglio evitare appunto? Questa è una domanda effettivamente importante. Cosa mi sento di dire a chi vuole aprire in questo momento? Nel mio settore, nell'asporto, ovviamente io non posso far altro che dire quello che credo io e quello in cui ho sempre creduto è il prodotto, quindi sicuramente di proporre un prodotto ottimale, quindi qualità del prodotto, qualità delle farine, qualità di diciamo di in generale di tutte queste cose qua, affiancarsi di personeare valido e a differenza di quello che è stato il mio periodo storico, quindi ormai parliamo di 20 anni fa, io ho avuto la fortuna, tra virgolette, di vivere un periodo dove effettivamente il marketing non era ancora così spiccato, cioè potevi vivere, potevi andare avanti offrendo un buon prodotto, punto. Perché chiaramente c'era un decimo della concorrenza. Esatto, non c'era quella grande concorrenza e quindi era più semplice, ora la concorrenza è ovunque, non puoi sbagliare un colpo, non puoi, devi stare attentissimo a tutto, al dettaglio, bisogna essere puntigliosi e sicuramente investire in queste cose qua, in marketing, in guardare sempre un pochino oltre, ecco, non fermarsi lì a quello che è l'apparenza, le cose, investire anche su questo secondo me adesso è fondamentale, cosa che ho oggi che mi ritrovo a fare dopo tanti anni di vita di rendita. Prima di rischiare di finire in un declino ho messo il resoconto che è meglio anticipare i tempi, non aspettare l'ultimo per lanciarsi e creare un'immagine nuova, diciamo, della propria attività. Io sto facendo questo, mi consiglio quindi a chi apre da zero, di partire subito forte su queste cose qua, di non fermarsi al volantino, alla cosa semplice perché secondo me se apre da zero ad oggi non credo che possa funzionare, poi ovvio non ho la certezza di questo, ma se ora fossi un giovane ragazzo che decide di aprire da zero guarderei benissimo tanti aspetti, non dico di lasciare in secondo piano la pizza perché poi ovviamente la pizza è il centro di tutto questo, però guardare molto attentamente tanti fattori esterni, dove collocare l'attività, guardare ovviamente i costi, queste sono le cose che consiglio a tutti quelli che mi chiedono, controllo i costi fissi, prima cosa, prima regola, guarda quanto andrei a spendere sempre tutti i giorni, tutti gli anni della tua vita lavorativa, quello è fondamentale. E poi comunque sia migliorare migliorare in quello, crescere secondo me come immagine, ormai mi rendo conto che le attività che funzionano meglio sono quelle o storiche, che l'immagine se la sono creata sulla loro pelle, vendendo un prodotto, oppure chi nasce ora mi rendo conto che chi fa forte sono persone che puntano tanto sull'immagine, sul brand, su quello che è proprio questo. E quindi la cosa secondo me è fondamentale, i due punti dico qualità del prodotto e innovazione, cioè andare un pochino, cercare di essere un po' differenti da quello che hai intorno, migliorarsi da quel punto di vista, di essere un po'... si devono ricordare di te, ecco, devi apparire in qualche maniera un pochino più, un po' diversa dalla media, tanto che tratterare il cliente, e poi a quel punto lì lo consolidi con un prodotto ottimo. Mi sento di dire questo. Assolutamente d'accordo, diciamo sempre, fare una buona pizza è fondamentale, è la condizione necessaria, ma non più sufficiente, quindi magari un tempo poteva bastare, oggi non è sufficiente, bisogna sapere anche comunicare, sapersi differenziare, soprattutto perché dire che la propria pizza è buona lascia il tempo che trova, perché a parte che nessuno dice che la sua è cattiva, ma poi è anche molto soggettivo, mentre invece dire che sia diversi è chiaramente quella differenza, quella diversità che ti rende migliori agli occhi del cliente, fa tutto un altro effetto e, come dicevi tu, bisogna sempre stare un passo avanti rispetto agli altri da questo punto di vista. Diciamo, abbiamo fatto una bellissima intervista, cerchiamo sempre di stare entro l'ora, tre quarti d'ora, questo è il nostro tempo a disposizione, però mi farà piacere risentirti magari allo scadere di un anno del primo compleanno con Vinny, così ci potrei fare il bilancio completo di cui parlavamo prima e, comunque, nel frattempo con Pierre, chiaramente ci sentiamo, come raccontava anche lui, stiamo facendo altre cose insieme e io lo ringrazio anche per questo, perché per noi è fondamentale avere delle persone come lui che ci danno questi feedback, e questi riscontri e poter crescere insieme la cosa migliore che possa capitare, credo, un po' in tutte le attività. Quindi ti saluto ancora, ti ringrazio, Pierre. Ciao Mario. Ricordo la tua pizzeria, Pizzeria Al Vulcano, in via Trento 63 Rosso, nel quartiere di Albaro a Genova, quindi se siete in zona o vi capita di passare, non mancate, perché comunque, dicevamo prima, fa un'ottima pizza. E per questa puntata è tutto, ti ricordo, se vuoi anche tu ordinare Vinny, devi semplicemente andare sul sito vinnypizza.com, lasciare i dati tuoi della tua pizzeria, se avrai i requisiti che noi richiediamo, dopo qualche giorno ti arriverà un avviso, in cui potrai richiedere il nostro kit di prova, al tempo non c'era ancora quando Pierre ha iniziato, poi gliel'abbiamo fatto avere, e in questo kit potrai avere i Vinny da provare, quindi fai il confronto che ha fatto anche lui tra il cartone e Vinny, metti le pizze, almeno tre pizze da una parte, tre pizze nell'altro, tipo di contenitore, misura la distanza di tempo, la temperatura e la fragranza delle rispettive pizze, e dopodiché scoprirai anche tutto il materiale di marketing e tutti i concetti di cui abbiamo parlato, perché come dicevo Vinny non è solo un prodotto, ma è un sistema unico di miglioramento costante per le pizzerie. Con questo è tutto, vi ringrazio e ti ringrazio per l'attenzione, e ancora Pierre per la disponibilità, ci sentiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Pizzeria Ricca. Ciao!